Ciao a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Come sempre sono qui per darvi una mano anche nelle situazioni più complesse, ovvero su Black Myth Wukong, dove nel capitolo 4 abbiamo una side quest nascosta, o per meglio dire una side quest che viene accennata e che comunque sia viene anche vista inizialmente e sembra essere quasi una sorta di interazione randomica. In realtà non è così, perché il completamento di questa side quest porterà alcuni benefici. Quindi direi di cominciare subito a parlare dei quattro piloni o comunque dei quattro sigilli viola presenti all'interno del quarto capitolo. Allora, ci troviamo praticamente qui nel teleport Ponte Verdeggiante, che si trova esattamente all'antro delle Ragnatele e poi successivamente Ponte Verdeggiante, il secondo teleport. Una volta arrivati qui, dobbiamo praticamente seguire la strada che ci porta fondamentalmente avanti con la trama. Quindi andiamo avanti. Benissimo, una volta arrivati in questa zona e superato questo ponte, come potrete notare vedrete uno dei sigilli viola, il primo dei sigilli viola. Questo sigillo vi innescherà la quest, semplicemente perché vedrete una cutscene. Quindi avrete modo di riconoscere questo sigillo anche per gli sparkle viola che vedete, quindi le scintille viola che vedete tutto attorno, ma al tempo stesso la seconda figlia del ragno viola, anzi del ragno giallo in questo caso, vi mostrerà praticamente questi pilastri e vi dirà di stare alla larga da essi, non potendo interagire. Mentre invece noi, a quanto pare, possiamo interagirci. Quindi ci avviciniamo, rimuoviamo il primo sigillo e dopodiché ci spostiamo verso il secondo. Il secondo sigillo invece si trova praticamente qui, alla rupe dell'oblio. Quindi come potete notare, ci siamo teletrasportati sempre all'antro delle ragnetele, successivamente rupe dell'oblio. Questo è il teleport che dovrete seguire. Una volta arrivati qui, il sigillo si trova esattamente alla vostra destra. Quindi girate, troverete questa casetta qui in Canada, ed è qui che troverete l'altro sigillo. E come potete notare, qui potrete interagire e rimuoverlo. Il terzo sigillo invece si trova qui, nella valle o comunque nel rilievo del long caduto. Quindi sempre antro delle ragnetele e poi successivamente rilievo del long caduto. Inoltre qui, se avete raccolto in precedenza le scaglie di long, da questa parte qui, sulla destra, potete affrontare un boss segreto. È uno dei boss che viene incluso all'interno delle scaglie di long che se avete curiosato tra i miei video, ho già trattato. Quindi qui affronterete un altro di questi boss per ottenere delle altre cosucce. Quindi vi ricordo di seguire la mia guida per quanto riguarda le scaglie di long. Per quanto riguarda invece il tempio o comunque il sigillo, in questo caso, dobbiamo andare da questa parte. E qui abbiamo il nostro terzo sigillo. L'ultimo sigillo, invece, si trova esattamente davanti al boss finale. Ovvero nel tempio del fiore giallo, cortile della luminosità. Quindi sempre antro delle ragnetele e poi successivamente tempio del fiore giallo, cortile della luminosità. Se a differenza mia, però, completate il capitolo e sconfiggete il boss finale, purtroppo da quello che ho potuto leggere in giro, perché ovviamente ho controllato un pochettino per evitare di aver sbagliato qualcosa, voi arriverete qui, ma succederà questo. Ovvero verrà alzata una barriera magica che voi non potrete superare e che purtroppo vi causerà questo malfunzionamento. Da quello che ho capito, sembra essere un bug. Perché fondamentalmente i sigilli sono presenti all'interno dei vari punti presenti all'interno del gioco, solo che in un modo o nell'altro vengono bugati. E quindi di conseguenza non potrete completare al 100% questa missione. Io ovviamente ho letto che cosa succede, quindi vi dirò effettivamente cosa avrete a che fare. Nel momento in cui leverete questo sigillo, arriverà un boss che dovrete affrontare. Se lo sconfiggerete, bene. Se non lo sconfiggerete, ma riuscirete a resistere per un bel po' di tempo, avrete comunque vinto. E quindi sarà l'epilogo, diciamo, di questo capitolo, di questa sfida, soprattutto per la seconda figlia del ragno giallo, che era esattamente colei che vi ha introdotto a questa missione. Detto ciò, non ho altro da dirvi, spero che questo video possa esservi stato utile. E noi, come sempre, ci becchiamo alla prossima. Ciao!